eccoci qua buonasera a tutti ragazzi del vostro carto al curva nord prima di iniziare questo video vi chiedo scusa a tutti coloro che hanno aspettato la live del perugia e della serie a ma purtroppo ragazzi ho avuto un piccolo problema di connessione che si è risolto solamente nel secondo tempo appunto e mi trovavate su twitch ma l'avevo già detto nella community però ragazzi da adesso in poi troverete le mie live reaction appunto su twitch il canale sta appunto nella community dove appunto ho fatto anche appunto la richiesta allora ragazzi perugia chievo 2 a 1 doppietta di jemmello e perugia come apre il suo bel campionato con una retrocessa come il chievo che ragazzi il chievo era appunto un ex squadra di serie a e abbiamo fatto una grande bella figura grande perugia a primo tempo i primi dieci minuti l'ho visti un po sottotono forse era normale appunto un po spaventati da questo chievo ma poi ragazzi erano fuori l'orgoglio grifo e siamo andati in subito in pareggio verso la finale del primo tempo appunto grande jammello che sul calcio di rigore riporta sull'1 a 1 e al secondo tempo ragazzi altro calcio di rigore giustissimo per noi del perugia e sempre jammello per chiudere 2 a 1 ma verso la fine ragazzi dichiara dichiara ci salva le chiappette del culo e il perugia può rimanere saldo massimo oddo al debutto fa 2 a 1 con il chievo questo vuol dire tanta roba ragazzi vincere con il chievo alla prima giornata davanti a renato curi è veramente tanta roba grandi ragazzi avete fatto una bellissima partita perché al secondo tempo ci abbiamo provato più volte a fare appunto il gol del 3 a 1 che poi purtroppo non è arrivato vabbè ragazzi pazienza pazienza l'importante era di vincere non era facile non era facile ragazzi stiamo parlando con una un appunto retrocessa dalla serie a che comunque ha mantenuto la maggior parte dei suoi giocatori che ho visto appunto in campo maggiorini vignato ho visto un sacco di persone appunto che stavano già in serie a appunto anche steppischi quindi ragazzi usate tanta roba aver vinto 2 a 1 davanti al nostro pubblico buona la prima di oddo mi è piaciuta mi dà un buon aspicio appunto per poter sperare in un cammino spero a questo punto per il grifo molto molto rosio perché ce lo meritiamo ce lo meritiamo e quindi ragazzi avanti così è solamente la prima ma dobbiamo andare avanti così questo è lo spirito che serve appunto per credere a questa benedetta e consagrazione di serie a grande grande perugia grande grifo vi meritate questa serie a e quest'anno insieme a me appunto attifarla a ogni costo sempre comunque dagli perugia che ce la possiamo fare ciao rega